Tempo di fare luce con Lightpack Coil, nostro reparto tutto l'orce. Ragazzi fermi lì che siamo di fronte ad una delle migliori torce militari disponibili sul mercato. Vi presento la famiglia Streamlight Sidewinder. In realtà non è proprio tutta la famiglia, ma presto completiamo la collezione. Cominciamo con quelle palmari. Prima però questo nuovo marchio che entra a far parte della famiglia di backpacko Streamlight. Che cos'è? Beh è un'azienda americana situata a Dagelville in Pennsylvania e non fa altro che produrre torce di altissima qualità. Fu fondata pensate nel 1973 iniziando a sviluppare una soluzione di illuminazione specializzata per la NASA. Il compito era facile, bisognava riprodurre la luce solare come se non fosse filtrata dall'atmosfera. E Streamlight si impegna già nel 1973 in una sfida di questo tipo. Nel corso degli anni e dopo una serie di successi, l'azienda è cresciuta diventando un importantissimo fornitore di illuminazione portatile. Così si chiamano fari, faretti e torce di tutti i tipi in gergo tecnico. È stata subito apprezzata dalle forze dell'ordine, dalle forze armate e dai first responder, dai soccorritori, quindi paramedici e ovviamente vigili del fuoco. Ne parleremo di questo. La gamma di Streamlight include torce di tutti i tipi. È famosissima la sua serie di torce sotto canna applicabili agli armi da fuoco. Quanto ci divertiremo al riguardo. Ed è sicuramente uno dei marchi più apprezzati proprio nell'ambito del soccorso dei vigili del fuoco per l'illuminazione degli ambienti durante un incendio. Nello specifico la famiglia Sidewinder è una torcia che mi avete visto maneggiare innumerevoli volte. Questa è proprio la mia e ce l'ho da tanti anni. È una torcia comoda, particolare nel suo, ma è praticamente in tutti i miei kit da prepper. Se le torce sono anche la tua passione devi recuperare le live di Lightpaco. Proprio ieri sera ce n'è stata una, io te le lascio tutte in descrizione, ma lì parliamo solo di torce, solo tra appassionati ed è il momento in cui ci si può sbizzarrire con le caratteristiche tecniche, i dubbi e i confronti. Dunque la linea palmare della Sidewinder arriva in tre modelli, tre versioni. Mettiamole in ordine un po', va bene? Abbiamo la versione boot, la versione recluta, la più piccolina. Poi la versione che chiameremo classica, la Sidewinder LED, e la versione top, che è la Sidewinder Rescue. Sono robuste da far paura e hanno delle caratteristiche che le accomunano, soprattutto queste due, mentre un po' meno la boot. E con una mano sola si può fare tutto, anche cambiare le batterie. Questo è necessario, ovviamente in ambito militare può essere importante, da una parte perché l'altra mano è impegnata in qualche operazione, e dall'altra perché potremmo essere feriti e quindi disporre di una mano sola. Ci si mette un po' di tempo, ma si fa. Ecco che prelevo dal mio contenitore TIRMA le batterie, sto facendo tutto con una mano sola per verificare che le cose vadano come detto. Ah, questi sono disponibili su Backpack, torneranno prestissimo in forze, quindi se vi interessano andate sulla pagina del prodotto e compilate l'avviso automatico che vi farà sapere non appena arrivano in magazzino. Ok, facciamo che devo cambiarle. Ecco qui, togliamo un paio di batterie. Vedete come il coperchietto del vano batterie è girevole, senza problemi, ma legato con un filo d'acciaio in modo da non perderlo durante eventualmente azioni concitate o nella confusione della battaglia. Ecco che adesso, continuando il nostro esperimento, qui è segnato il più dall'altro lato, quindi devo girare la batteria e richiudere lo sportello. Vediamo se riesce tutto come ci aspettiamo e vediamo se abbiamo raggiunto la funzionalità. Eccola qui, la nostra torcia è prontissima a lavorare. Ci sono diversi livelli di intensità luminosa, regolabile, chiaro, diversi effetti, adesso ve li spiego un po' tutti. L'interfaccia è particolare, non è la stessa tra le lampade. Questa boot, la più piccolina, che devo dire è anche una plastica che sembra meno affascinante di quelle professionali. Vabbè, questa ha il suo tastino per accenderla. Se tengo premuto cambia l'intensità. Tutte le caratteristiche tecniche le trovate su Backpack. È evidente che qui c'è uno sportellino che mi garantisce anche la luce rossa. La boot ha a disposizione anche lei una bella clip solidissima con un aggancio per un adattatore che arriverà in seguito da applicare eventualmente all'elmetto. Ok, questo si inserisce qui a pressione, si blocca e agganciandolo all'elmetto posso ruotare la torcia come mi interessa. Il vano batteria della boot è diverso. Non è facile lavorarlo con una mano sola, si riesce con due mani, con un po' di imprecazioni, si apre sempre due batterie AA che trovate già in confezione. Io ho utilizzato quelle a litio, sono le mie preferite. E poi si riavvita di nuovo, questo non è proprio agevole. È la versione più semplice, è la versione più economica. Però devo farvela vedere perché è la fascia base e potrebbe essere interessante per voi dotarvi di un'ottima torcetta con meno funzionalità ma sempre con certificazione militare. Consultabile su backpack.it dove potete informarvi se vi serve saperlo o se siete curiosi di quelli che sono le caratteristiche tecniche militari delle torce di tutte quante. Ora mi dedico un po' di più al Sidewinder LED e alla Rescue che sono quelle più performanti e piene di funzioni. Esternamente il vano porta batterie è lo stesso, l'avete visto, funziona allo stesso modo. Il polimero con cui sono realizzati è estremamente tosto e la tenuta è impermeabile. Continuo a giocarci quindi vi sarete resi conto che esiste la possibilità di ruotarla a 185 gradi. Posso bloccarla da una parte, posso applicarla allo zaino e applicarla, visto che ha anche lei la clip in dotazione, ad un aggancio per casco a diverse cosine che vedremo però in seguito. Le istruzioni sono tra l'altro riportate in serigrafia proprio sulla lente e vi dice chiaramente come si accende, come si regola l'intensità e come si applica lo strobo, la modalità intermittente. Il tutto è regolato da un'interfaccia rotante, io devo sollevarla per permettere la rotazione. Se non la sollevo lei non gira, perché se sono in modalità infrarossi non devo rischiare di accendere la luce visibile. Abbiamo tre lettere, la B che segna il blu, poi ovviamente il bianco, il rosso che sono i colori più semplici e visibili e l'infrarosso che voi non potete vedere come non posso vederlo io, ma è essenziale se si dispone di visori notturni o per segnalare. Facciamo adesso un esempio con il blu, posso tenere premuto e regolare l'intensità, questo vale per tutti i colori. Con un doppio clic invece mi attivo il lampeggiante. Questo ragazzi vale con tutti i colori, posso cambiare colore in corsa, vedete, in questo modo comodissimo. Il bianco chiaramente ha una proiezione maggiore, ma non vi aspettate le performance da super torce, perché le torce militari sono toste ma devono essere discrete. Se io sono in una posizione e devo controllare una mappa, lo faccio magari con la luce rossa e lo devo fare con discrezione. Se accendo una Nightcore DC29 illumino tutto il campo di battaglia ma segnalo anche la mia posizione. Adesso la Rescue, il gioiellino di casa che arriva con un altro accessorio, che è possibile montare anche eventualmente in futuro sulla LED. Cos'è questo accessorio? È una piastrina che consente eventualmente il passaggio di cinghie velcro e ci permette di fissare stabilmente all'equipaggiamento, magari ad uno zaino, la torcia. Cosa abbiamo di particolare? Beh, una cosa certa, non ci sono più le indicazioni con i colori. Quindi questa volta dobbiamo capirlo da noi un po' prima quello che ci serve. Ma dopo un po' si impara ragazzi, non è affatto un problema. Ah, questa è dotata di luce verde e anche di luce. Abbiamo luce blu, scusate, luce infrarossi, segnalata da questo dentino, perché non è visibile. Luce blu, eccola qui, sempre regolabile tenendo la premuta come intensità. È sempre accessibile, con le sue istruzioni qui sotto, eccolo qui, ah, ora mi cieco. Sempre accessibile la modalità lampeggiante. Ancora, luce bianca, stessa cosa. Vi ho svelato già il segreto, adesso ci torniamo, è luce verde. Beh, il segreto è che possiamo adoperare la Sidewinder Rescue con lo sportellino, con il diffusore segnalatore. Che cosa fa? Beh, è semplice. Quando lo metto in posizione e accendo magari la torcia dedicata, mi fa una luce ambientale e soprattutto mi funge da segnalatore. Vedete come adesso sono visibile da tutti i lati. Se l'avessi sul casco, sarei visibile a 360 gradi. E questo è importante se io devo segnalare la mia posizione. Ecco, la caratteristica più importante della Rescue è questa. Oltre alle differenze nelle colorazioni. Ricapitolando, luce bianca e rossa. Luce bianca, rossa, blu e IR. Qui invece luce bianca, blu, verde e IR con il diffusore ambientale. Chiamiamolo pure in questo modo. Vi ribadisco che sono fatte negli Stati Uniti e funzionano con le due batterie AA in dotazione. Poi potete sistemarci le ricaricabili, le litio. È possibile montarle con accessori che vedremo, poi magari su altri tipi di equipaggiamenti, almetti e compagnia. La potenza in lumens non è eccessiva. Siamo sui 55 lumens. Perché ragazzi, di nuovo, devo illuminare una porzione ristretta. Se ho bisogno di un illuminatore enorme, allora avrò la torcia sull'arma o altri tipi di illuminazione. L'esigenza del soldato, l'esigenza dell'operatore di sicurezza, e permettetemi spesso anche quella del prepper, è quella di vedere senza però farsi notare troppo. Pesano tutte tra gli 80 e i 100 grammi. Sono abbastanza leggere perché in polimero, anche se è un polimero bello tosto, e il colore è coyote bellissime, no? È un prodotto professionale, quindi lo consiglio chiaramente agli operatori di sicurezza e agli appassionati di torce. Con una particolare attenzione però anche al prepping. Perché è una torcia che io ho reputato perfetta per tanti kit che ho realizzato. E adesso iscriviti al canale, schiaccia la campanella, così non ti perderai neanche uno dei prossimi video. Noi ci vediamo in giro anche sugli altri social. Alla prossima!